Allora, ascoltiamo però Lilli. Vediamo se ci riesce. Quattro buchi nella pelle. Lilli, carta di giornale. Lilli lilli lilli, nuda e senza scarpe Lilli lilli lilli, bianca non in ospedale Lilli lilli lilli, senza capelli Lilli lilli lilli, senza denti per mangiare Lilli lilli lilli, una montagna di rifiuti Lilli lilli lilli, nessun latte ti potrà salvare Lilli lilli, stupiavamo insieme Lilli lilli, viaggiavamo insieme Quale treno, quale libro ora, quale amore ora mi ti potrà ridare in questa canzone futura lui si immagina una bambina che nasce in una berlino ancora della guerra fredda lo immagina il futuro e la scritta a berlino dopo un concerto si fa portare in taxi a checkpoint charlie dove c'era il muro e comincia a immaginare questa cosa qui sul futuro è molto bella molto difficile non l'abbiamo provata mai quindi vediamo che cosa succede chissà chissà domani su che cosa metteremo le mani se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa non esser così seria rimani i russi i russi gli americani non lacrime non fermarti fino a domani sarà stato forse un tuono non mi meraviglio è una notte di fuoco dove sono le tue mani nascerai non avrà paura nostro figlio e chissà come sarà lui domani su quali strade camminerà cosa avrà nelle sue mani nelle sue mani si muoverà potrà volare ruoterà su una stella come sei bella e se una femmina si chiamava futura il suo nome detto questa notte mi fece già paura sarà diversa bella come una stella farei più in miniatura ma non fermarti voglio ancora baciarti chiudi i tuoi occhi e non portarti indietro tutto il mondo sembra fatto di vero sta cadendo a pezzi come un vecchio presego più muoviti più in fretta di più benedetta di più nel silenzio tra le nuvole più su che si arriva alla luna sì la luna ma non è bella come te questa luna è una sottana americana allora su mettendoci di fianco più su guida tu che sono stanco più su in mezza grazie un batticuore più su sono sicuro che c'è il sole ma che è sole è un cappello di ghiaccio questo sole è una catena di ferro senza amore 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 e tu? la giovinezza e la voglia del futuro ecco e io la speranza appunto la voglia di cambiare ancora qualcosa che è appunto come lui bene ciao vi ringraziamo ci rivedremo per altre trasmissioni in diretta studio si ferma qui ciao a tutte grazie